Ciao ragazzi, qua è Omega, come state? Spero alla grande, bentornati sul mio canale e in questo nuovo video della GTA V Mod Vita Reale da Calciatore Direi con Cristiano Ronaldo, ma attenzione perché non la gioca Cristiano Ronaldo sto giro ragazzi, ma ci sarà Jasmine Perché come avevo già anticipato qualche video fa, Jasmine diciamo che non è che si è tornata, è tornata proprio nella vita di Cristiano Ronaldo E' in ospedale perché ha avuto dei problemi con Giorgina che l'ha picchiata, però adesso ragazzi Jasmine si è ripresa e vuole la sua vendetta Quindi vi invito a vedere questo video fino alla fine perché a fine video comunque saluto, riprendo da oggi a salutare 5 di voi su Instagram E a fine video comunque ci saranno delle altre novità riguardanti Ronaldo Junior, forse vi farò qualche spoiler, ma lo vediamo Quindi mi raccomando ragazzi, guardate il video fino alla fine Quindi un bel mi piace ovviamente per quello che andremo a vedere perché ora Jasmine sarà scatenatissima E iscrivetevi al canale così non vi potete perdere nessun video Mettete il telefono, andate su Instagram, scrivete a chioccio a realentoni e venitemi a seguire, è obbligo proprio ragazzi Ci mettete due secondi a seguirmi, mettete mi piace, fate quello che volete così vi posso salutare nei prossimi video Quindi mi raccomando, che ci tengo lo sapete L'episodio inizia esattamente così Siamo Jasmine in questo momento e siamo appena usciti dal parrucchiere per farci i capelli biondi Per non farci riconoscere Allora, non è che stiamo cambiando l'identità, no, attenzione Stiamo cambiando il look di capelli Infatti, come potete vedere, Jasmine è appena diventata praticamente bionda Ditemi se vi piace, è una moda un po' particolare Se Jasmine è diventata bionda ragazzi Beh, è cambiato moltissimo, eh Sono stati solo i capelli, il suo fisico è rimasto sempre lo stesso Però come potete vedere, quando cammina, cammina ancora un po' piano per via delle botte che ha preso comunque da Giorcina Detto questo ragazzi, o meglio dovremmo dire ragazze, perché oggi siamo, oggi abbiamo il girl power Io devo vendicarmi assolutissimamente su quello che mi ha fatto Giorcina Però devo cercare ovviamente di non far passare di mezzo nel piccolo Ronaldo Junior A cui comunque sono stata con Ronaldo Junior Non so qual è il motivo, ma se ero scioccata O con Ronaldo Quindi adesso cerchiamo di capire un attimino come fare Magari facciamo un giro e vediamo se troviamo qualcosa Vi ricordo ragazzi che questa è la Lamborghini di Jasmine La Lamborghini, per chi ne riconosce, il modello è la Revento E che gli regalò appunto Cristiano Ronaldo tempo fa Che Tracy gli rubò e lei si è ripresa Non so se ve l'ho ricordato Io sicuramente mi ricordo a memoria di tutta la serie Vi dico quello che mi ricordo Ok, allora Vediamo un attimino dove possiamo andare Di certo non possiamo andare a casa a Ronaldo Perché non so cosa sia successo dopo che io sono andata Se hanno litigato, se non hanno litigato Non ho idea Quindi Ora vediamo un po' ci dobbiamo organizzare Sto prendo un'idea Che C'è un'idea base Andrò a trovare che si stanno Ronaldo nel pomeriggio con la scusa E poi ovviamente tutto quanto in suo piatto E farla pagare a Jasmine So già come fare Non ve lo spoiler Però Jasmine sa già come fare Intanto ci andiamo ad allenare alla palestra Perché un po' di allenamento serve La palestra che sta qui Dove a volte Ronaldo è andato E si è allenato Arrivati alla palestra Parcheggiare la Lamborghini Un attimo qui da qualche parte Così magari Vi faccio anche un po' di passi a piedi Che Vedi sarebbe ora Dato che comunque Non stiamo per niente bene a livello fisico Cioè stiamo davvero messe male E quindi ragazzi Niente Ora ci andiamo ad allenare Vediamo un po' se riusciamo a recuperare un po' qualcosina Aspetta un momento Ma io quest'auto la conosco Scusa? Io quest'auto la conosco Esattamente così come sta Io penso sia l'auto di Cristiano E infatti ragazzi L'auto di Ronaldo Però aspettate Ronaldo Che ci fa qui? Qui ci sta solo un fisioterapista E basta Non ci sta nessuno A meno che io sappia Non so se sia venuto al mare o qualcos'altro Ok ragazzi Mi sta avendo un'idea Forse potrebbe essere la nostra occasione Stanno cambiando le cose Dobbiamo fare presto Cercare di andare ad ammunition Prima possibile Ragazzi non so cosa abbia in mente Jasmine Ma sta letteralmente scassando la sua auto La sua Lamborghini Più di fare presto Jasmine questa è strada chiusa Ti ricordo Dove stai andando? Brava Butta giù i pali Vai contro mano E va Vabbè Tutti i personaggi del suo gioco Vanno quello che gli pare Allora non so cosa stia succedendo ragazzi Ma Jasmine sta andando Praticamente all'uscita della luce E sta recando ad ammunition Più vicino Perché forse avrà qualcosa in mente Pensa che ci sia Giorgino con Ronaldo E quindi possa fargliela pagare Però Giorgino ovviamente Non lo sa Non sa niente Ma sto signore vuole essere messo sotto Vuole camminare Come va? Dobbiamo cercare comunque ragazzi Nella nostra vendetta Di non cercare di mettere in mezzo Ronaldo Allora andiamo da qua che facciamo prima Non so che non posso andare però Non chiedetemi che ti abbia a Jasmine Ma sape che voglia fare sul serio davvero Si salve signor commesso Dice che Possiamo dargli tutto quello che vuoi Tranne delle armi che alcune sono prenotate No guarda Guarda Mi servono soltanto delle sticky bomb Ah dice che quale ce le ha E ce ne può dare anche due o tre Senza problema Come delle sticky bomb Oddio Jasmine ma Oh mio Dio Questa è pazza Che cosa vuoi fare? Non dice che vuoi far saltare in aria L'auto di Ronaldo Grazie È stato molto gentile Arrivederci Ragazzi Sicuramente per Jasmine È stato abbastanza facile Procurarsi un'arma Praticamente delle sticky Bombe Non so se Intensi far saltare L'auto di Ronaldo Quindi ragazzi Non ci resta altro Che Vedere cosa farà Jasmine Torniamo adesso immediatamente Subito Avevamo visto l'auto di Ronaldo Sperando di riuscire a far presto Jasmine attenta così Però Giustamente Si deve muovere Perché non sappiamo Se sarà ancora lì o no Vai 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 Cerchiamo di andare Più o meno piano Speriamo di non prendere molte Allora Abbiamo lasciato l'auto Dietro l'angolo E Siamo con Jasmine qui E Attenzione Ci sono Giorgino e Cristiano Ronaldo Che Stanno parlando Allora Da qua sicuramente Non mi vedono Quindi posso anche alzarmi Faccio vedere con lo zoom Qualcosa Se riesco a far vedere Con Snapchat Che Da quello che vedo Sembra che stiano litigando E anche pesantemente Magari ho messo un po' di zizzania Tra la coppia Comunque qui c'è un fisioterapista Io comunque a Jasmine Qualche mazzata Gliel'ho tirata Certo lei mi ha ridotto Proprio un colo al bruto Mi ha ridotto male Quindi forse Sarai venuta qui Per pagarsi O meglio per far pagare a Ronaldo Le cure per il fisioterapista Per fare una piccola rehabilitazione Chissà dove Vedi ragazzi Allora il nostro piano Stando peggio di quanto Cioè Mello di quanto pensavamo Perché Ora aspetteremo che Ronaldo Entri dentro a pagare Come prima cosa E faremo esplodere L'auto La macchina Vabbè Fa niente Ronaldo se ne compra un'altra C'ha 200 milioni d'anno Perché attenzione Faremo esplodere l'auto Con Giorgina dentro Proprio un piano malefico A sgara Adesso voglio vedere Chi è che ci fermerà Sì vai Jasmine Sì Criminale Sì 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 Tipo lì Chissà che starai pensando Ma forse è meglio Le varie cose che è meglio Ok ragazzi Non appena Troveremo il momento buono Mi avvicinerò di soppiatto Senza farmi vedere Ovviamente E vedremo Cosa riusciamo a fare Quindi Stai Ronaldo Entra dentro Ok ragazzi Sembra essere il momento giusto Cristiano Ronaldo È entrato Cerca di camminare Comunque Non ci deve vedere In macchina C'è Giorgina E si vede la sua testa Lì Allora ragazzi Ronaldo avrà fatto il giro Perché Ho detto Il figioterapista è qui Non ci resta che Fare la finta tonta Fare la finta Che quella sia la nostra macchina E piazzarne Semplicemente Una Senza far finta Di nulla Ok ragazzi È ora di scappare È ora di scappare Scappa 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 Sì che La detonazione La dovremmo dare noi In ogni caso Comunque ragazzi Aspettiamo che Vadano via delle persone Forse è meglio mettersi qui Ecco come passa quella signora Per rimesso della macchina Con Giorgina dentro E finalmente avremmo avuto La nostra Vendetta ragazzi Sarò curioso anche Di andare a vedere in ospedale Come se la starà passando Quella infale Alla detonazione 3 2 1 Ma no Oddio È andata dell'acqua ragazzi Esplosa Oddio È morta credo di sia Ragazzi È andata dell'acqua Oddio Corri 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 Non riesci a correre più veloce Poverina Corri Ragazzi sono passate due ore Siamo andati all'ospedale Da quando mi hanno fatto saltare Circa in area Giorgina Perché ci sono tutte queste ambulanze Oh che sta succedendo E scusate Dovrei Dovrei entrare e fare visita A un mio amico È possibile signore Parlo con lei Allora ragazzi Il signore ci sta dicendo Che hanno avuto Un'emergenza C'è stata un'auto esplosa Vicino a Vespucci Beach Dicono che sia Una Bugatti Che per fortuna Come per fortuna Dicono che per fortuna Si è assaltata in aria Si è andata in acqua E chi sta dentro Non si sa se sia morto No Cioè dicono che sia Praticamente in coma Che la macchina è esplosa La macchina è totalmente distrutta Però ha avuto la fortuna Che è finita in mare Cioè in quel laghetto Che stava E la macchina Si è spetta subito Ma comunque Ha preso una brutta botta La gente dice Che deve ancora capire Di chi si tratta Perciò il medico Ha proprio detto Di non far entrare nessuno Né amici Né parenti Né nessun altro E che dovremmo aspettare Bene ragazzi Allora quanto pare Il pieno di Jasmine Sembra essere andato bene Ora non so precisamente Cosa è successo Cosa non è successo Ma quanto pare Il parametico Sta Non ci ha fatto capire bene La situazione Io vi dico ragazzi Che nel prossimo video Ci sarà uno scandalo Molto molto grosso Quindi Io vi invito comunque A seguire il prossimo video Vi invito a Essere attivi Perché nel prossimo video Ci saranno tante novità E vi dico che Ronaldo Junior È sparito dalla circolazione Non vedo Ronaldo Junior Un sacco di tempo Proprio non come Jasmine Ma come Io Omega Non vedo Ronaldo Junior Un sacco di tempo Chissà che è successo Quindi Le cose Si siano un po' a complicare A questo punto Mi viene il dubbio Ma siamo sicuri Che abbiamo fatto saltare in aria La persona giusta C'era Ronaldo non era con Giorgina No ma era Giorgina per forza Ragazzi Quindi Però adesso Vi saluto gli ultimi video Su Instagram Saluto LiccardoD RickyBrio10 Raffo07Tamburino Zeferra07 E Ciro31GalieroG Questi sono i 5 Che ho salutato quest'oggi Se anche potete essere salutati Da me In tutti i prossimi video Fate come Jasmine Impugnate il vostro telefono Cercate su Instagram Piocciarealentoni Ci mettete solo due secondi Vedetevi a seguire ragazzi Così vi posso salutare In tutti i prossimi video Mi raccomando Sapete che ci tengo Quindi Fate Bene Non c'è sta che aspettare Perché di fatto comunque Anche se è in coma Giorgina Non potrà mai riconoscerci Sembra Missione compiuta Non lo voglio dire E' da capire Intanto ora aspettiamo Io invito a mettere un like Se il video vi è piaciuto A iscrivervi al canale Per non perdere i prossimi video E rimanere attivi Perché ci saranno Delle novità Che non vi aspettate nemmeno Grazie per stati con me Anche quest'oggi Giorgina vi saluto Spero vi sia piaciuto Questo video Con la nostra Giorgina Che chiaramente Sembra che sia tornata Quavegozzo E bella per tutti quanti Al prossimo video Ciao